Ragazzi, voi che giocate giochi da tavolo ovviamente o soprattutto giochi di carte, vi consiglio di comprare le sleeves, le bustine di protezione della Mage Company. Sono di tutte le dimensioni, vedete qui ce l'hanno mandato un campione a casa per farvelo vedere, costano veramente poco, sono veramente prezzi molto competitivi e ogni bustina ce n'è 50. Vedete, nelle varie dimensioni per carte molto piccole si va ad esempio per gli equipaggiamenti di Zombicide che mi viene in mente o carte un po' più grandi per mettere insomma dentro carte come un Deep Madness o anche un Nemesis. E vedete ci sono varie dimensioni, sono molto resistenti in tutte le dimensioni e trovate il link al sito della Mage Company in descrizione per ordinarle. Andateci a dare un'occhiata ragazzi, ci hanno dei prezzi veramente veramente competitivi, infatti anch'io ho fatto un ordine recentemente per farmi arrivare un po' di roba a casa. Dateci un occhio! Ciao a tutti ragazzi, sono Coridan, ancora una volta ben ritrovati nel mio canale. Oggi vi voglio presentare Rurik, l'alba di Kiev, che è un gioco portato in Italia e tradotto dalla Jockey X che io ovviamente ringrazio di cuore per la possibilità concessami e per avermi mandato una copia di Rurik. Grazie veramente di cuore ed è un gioco che ho apprezzato molto ma le considerazioni finali appunto si fanno alla fine. Si parla ovviamente di scenni storici che vanno dal IX al XIII secolo in cui la dinastia di Kiev governò questo impero, prima ovviamente che ci fosse l'invasione dei Mongoli. Comunque è un gioco medievale con delle basi storiche veramente molto forti e tutta quanta roba che magari abbiamo studiato anche a scuola o che comunque qualcuno si ricorda. Ora forse la parte della storia dell'Est è quella che io personalmente conosco un po' meno. Comunque è veramente affascinante e del gioco è veramente ben reso. Questo è un gioco da 1 a 4 giocatori, ora poi vi dico secondo me il massimo lo dà in 4. Le partite sono abbastanza veloci, vanno entro 30-40 minuti, non si arriva veramente un'ora anche perché nel gioco sono 4 turni semplicemente. E come dice la scatola, per un'età che va dai 15 anni in su. Sì, secondo me ci può stare 15 anni in su per il contesto storico, però insomma le regole del gioco sono veramente semplici. E secondo me se ci metti qualcuno di 12-13 anni, comunque il regolamento lo capirà lo stesso. E è il bello perché è tradotto molto 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 bene, portato, ve l'ho detto, in Italia dalla giocaix.it. Ed è un gioco veramente affascinante e facile nelle meccaniche per come piacciono a me. Perché è un gioco semplicemente di conquista dei territori con valutazioni finali tipo commercio, guerre e cose varie. Dovremmo fare la conta dei punti e vedere quale sarà alla fin fine il regno che avrà guadagnato più punti. Ed è bello perché c'è anche una modalità in solo dove invece vi troverete a combattere contro i ribelli che stanno cercando di sovverchiare questo impero e quindi distruggerli, abbatterli, metterli in rotta e riconquistare le casate nobiliari. È veramente molto interessante e... niente, unboxing. Scatola, bella colorata, vedete, Rurik, l'alba di Kiev e come dimensioni vi faccio vedere sempre con la mano, insomma, siamo in dimensioni normali più che altre, bella, bella, larghe, bella, profonde, c'ha diverso materiale al suo interno e mi piace molto anche la colorazione che hanno scelto, il disegno medievale ci sta proprio. Ti ci inserisce veramente bene nell'ambientazione che poi andremo a giocare. Apriamo. Regolamento di gioco, anche qui. 10 pagine, mi sembra, 9-10 pagine. Piccolissimo, pieno zeppo di esempi e tra l'altro nemmeno 10 pagine, sono 8 perché poi le ultime due sono per la modalità in solitario. Quindi il regolamento è veramente facilissimo, ragazzi. miniature dei vari eserciti, vari colori che ci sono, bianco, rosso, giallo e blu, appunto per giocare da 1 a 4 giocatori e le miniature non sono, ragazzi, spettacolari, ricordano un po' quelle delle italeri, comunque, insomma, sono pedine da muovere sul campo e fanno la loro figura. Veramente ci stanno molto, molto bene. In più, vi faccio vedere, ci sono anche quelle dei ribelli che sono di colore nero. Le risorse all'interno del gioco che sono pelle, miele, pesce, roccia e legname. Queste sono le 5 risorse che potrete prendere dai domini, ovviamente, tassandoli. Tabellone di gioco, con il segnino dei turni e poi ve lo faccio vedere ora a breve, meglio aperto. Plance e magazzino per ogni esercito, vedete, c'è la zona del molo con la barchetta dove caricare tutte quante le risorse che prenderete dalle tasse dei vostri territori e dalla parte dietro, invece, c'è un'altra modalità che è quella in solitario. Plancia di rivendicazione e plancia, invece, delle strategie. Carte complotto carte agenda e altre cose all'interno che vi faccio vedere Monete del gioco per acquistare potenziamenti, carte e fare altre azioni particolari Carte dei personaggi speciali Adesivi che vanno attaccati sotto le miniature dei ribelli Ribelli che sono, come le altre miniature, solo di colore nero, come vi ho detto e due personaggi speciali presi a caso che contano come normalissima truppa però hanno delle regole speciali di solito quando sono vicini alle proprie truppe danno dei bonus che non per forza sono bonus di combattimento potrebbero anche essere bonus di costruzione o cose del genere queste sono veramente, veramente molto belle E poi, cosa che non c'eravamo nemmeno resi conto muovendolo si è sentito del rumore perché, aprendoli queste qui vi ricordate dove sopra c'erano le miniature aprendoli sotto ci sono tutti quanti i meeple delle fortezze delle chiese dei mercati e dei consiglieri l'hanno messa direttamente sotto veramente, veramente molto bellina come trovate mi è piaciuta molto Quaggiù in fondo c'è la corona che indica il passare dei turni e il gioco si sviluppa in 4 turni di gioco quindi, ogni volta che passerete il turno questo lo abbasserete di 1 arrivate in fondo e ci sarà l'ultimo turno e sarà finita la partita vedete, in una partita io vi ho preso l'esempio di una partita a 4 perché le regioni sono sempre marroni verdi e dorate in caso di una partita a meno giocatori non userete tutte le aree di gioco questa è una partita a 4 giocatori e vedete che sulla mappa ci sono ad esempio i ribelli che sono queste pedine nere che all'inizio hanno tutta quanta la regione e questi qui, una volta sconfitti ricordatevi sempre all'inizio del gioco, nel setup tanto una volta soltanto quando defustellate da attaccarci sotto un simbolo casuale delle risorse perché una volta sconfitti vi daranno la risorsa che c'è sotto in più, in ogni zona vedete che c'è una risorsa un piccolo meeple ad esempio qui c'è il miele e ci avevamo messo il miele qua su, ad esempio c'è la legna e ci avevamo messo la legna e così via questa è la mappa principale quindi contatore di turni che ha la corona una ribella zona e tutte quante le risorse segnate sulla mappa nient'altro plancia delle strategie che è la cosa principale e tutto il gioco si sviluppa intorno a questa qua praticamente saranno le vostre azioni che potete andare a fare posizionandoci sopra un consigliere come ora vi farò vedere poi dovete prendere il mazzo complotto dividerlo in due ragazzi non è uguale come vedete però più o meno che siano uguali due mazzi dovete dividere il mazzo complotto e lasciare al centro la possibilità degli scarti quindi una piccola zona per gli scarti di due mazzi mentre qui ci sono le carte atto che vi descriverò più avanti comunque gli atti sono quelli che possono essere presi a fine turno da ciascun giocatore e se l'atto verrà portato a compimento c'è sempre vedete il disegnino sopra di qualcosa da fare prenderete il bonus in fondo che ne so monete nuove truppe nuove costruzioni e ovviamente il simbolino rosso qua su in cima sono sempre i punti vittoria che prenderete a fine partita quindi questo paga due magari un po' più difficile e gli altri due pagano uno vi faccio vedere come gira tutto quanto intorno al gioco ricordatevi come detto all'inizio della partita dividetevi le truppe per colore e sceglietevi o a caso o proprio prendendolo un personaggio speciale facciamo conto che l'armata blu ha questo personaggio speciale qua mentre invece ha l'armata rossa così si riconoscano anche meglio i classici colori del deathmatch hanno quest'altro personaggio speciale e ovviamente andate sempre ad affidare e cercare le due carte relative ai personaggi perché vi ricordo i personaggi contano come truppa semplice normale alla fine della battaglia con un valore di uno però hanno delle carte speciali con varie abilità quindi queste mettetevele sempre da parte insieme all'esercito blu ci saranno i sei meeple dei consiglieri blu mentre invece insieme all'esercito rosso ci saranno sempre i sei meeple ora ne metto tre ragazzi tanto per farvi vedere dell'esercito avversario quindi ci saranno anche i meeple gialli e i meeple bianchi come detto tutto ruota qua intorno e la plancia delle strategie è divisa in adunata muovere attaccare tassare costruzioni e complotti voi avrete sei personaggi avete visto sei meeple che hanno un valore di uno un valore di uno due hanno un valore di due e poi c'è ovviamente il valore di tre di quattro e di cinque più alto è il valore sul meeple più potente è quel consigliere però ricordatevi che in ordine di iniziativa per risolvere le azioni azioni che vengono sempre risolte vi ricordate c'è anche l'orso di legno che rappresenta il primo giocatore però per queste cose qui non ce n'è bisogno si va in ordine di iniziativa per quanto vi ho detto la potenza è dal numero più alto al numero più basso l'iniziativa invece è dal numero più basso al numero più alto quindi l'uno andrà sempre prima di tutti gli altri e partendo dal primo giocatore quello che c'ha il vol dell'orso andremo a posizionare i nostri sei consiglieri su questa mappa qui decidendo dove metterli mettendoli in adunata richiameremo nuove truppe sul campo quindi che ne so se mi prendessi questa adunata qua su in cima vedete bene che ci sono tre coroncine quindi vorrà dire che io andrò a prendere tre personaggi mettiamo caso quello lì sia l'esercito blu andrò a prendere tre nuove truppe con quell'azione lì da posizionare sul tavolo nel primo turno le potete posizionare dove volete dal secondo turno in poi invece no le dovete sempre andare a posizionare nei punti dove c'è almeno una vostra truppa o una vostra fortezza ovviamente quel posto l'avete conquistato quindi noi andiamo a posizionare i nostri consiglieri sempre guardando il valore che c'è sopra e partendo dall'alto al basso perché se io dico ok la prima cosa che voglio fare essendo un turno che io voglio andare a guerreggiare ci metto la donata e chiamo tre truppe ok io sono il primo perché ho il meeple dell'orso quindi sono il primo giocatore e metto questo qui e ho messo il mio primo ne devo mettere sei quindi una fase abbastanza delicata e questa è la fase logistica strategica più importante del gioco lo metto lì arriva un altro giocatore che è il giocatore mettiamo caso quello rosso e fa anche a me interessa una donata ci metto un cinque il cinque partendo sempre i valori partano sempre dall'alto al basso andrà sotto il mio perché se pari valore va sempre sotto però se lui avesse detto ok ci metto un 4 il 4 uguale va sotto il 5 perché vi ho detto i numeri vanno a scalare dall'alto verso il basso così come anche se ci avesse messo un 2 però invece mettiamo caso che fosse stato il mio nemico quello principale ammette il primo giocatore ammetterci un meeple con valore 4 io se ci avessi messo uno di valore 3 che è andato qui sotto ok se ce ne avessi messo uno di valore 1 ad esempio sarei andato comunque sotto perché è inferiore a quello che ha messo lui ma nel caso ne avessi messo uno di valore 5 che è più alto del suo avrei spostato il suo sotto e avrei messo il mio sopra quindi chi ci mette un valore più alto si va a prendere la risorsa migliore perché ragazzi dall'alto al basso ovviamente quelle in basso fanno un più più schifo quelle in alto sono quelle più potenti basta vedere qua giù che già arrivando al terzo livello fai la donata ad una truppa chi si è preso il primo ne ad una 3 quindi capite che bellicamente sarà più potente in quel turno però allo stesso modo se lui ci ha messo quello di 4 io quello di 5 glielo ho spostato sotto ci ho messo il mio sopra lui a quel punto lì verrebbe spostato verso il basso però se io avessi posizionato questo 5 dall'altra parte e quindi lui ha qui un 4 e fate conto che a me in mano mi è rimasto soltanto al 3 e io ho bisogno dell'adunata delle truppe non posso lasciargli le 3 a lui perché mi servono si può sempre spendere monetine d'argento che di partenza ne avete sempre 3 che ne so se questo è un valore di 3 io ci posso mettere 2 monete sopra ok praticamente pago il mio consigliere per essere più efficiente e per ogni moneta che metterete alzerete il valore di 1 quindi avendoci messo 2 monete questo non è più un 3 ma diventa un 5 quindi questo lo sposto in fondo questo lo metto qui e l'ho fatto diventare un 5 quindi per tutte le altre cose è sempre uguale all'inizio la fase logistica ci dice scegliamo chi dovremmo mettere in adunata muovere attaccare tassare costruire e carte complotto ricordatevi sempre ragazzi di mettere questi meeple i consiglieri nella maniera giusta perché il valore più alto come vi ho detto principalmente il valore più alto sta in cima spinge gli altri in basso e si prende le cose migliori però il valore più basso nel caso di un 1 è quello che muove per primo perché invece l'azione di iniziativa è sempre alla rovescia quindi se questo ha un valore di 1 prima muoverà lui e farà la sua azione poi muoveranno tutti gli altri 1 degli altri giocatori poi che ne so toccherà i 2 quindi il 2 che è qui facciamo conto farà la sua azione quest'altro 2 che invece è qua giù farà la sua azione poi tocca a tutti i 3 poi a tutti i 4 quindi si il 5 è vero è quello che si è preso la cosa più potente però alla fin fine agirà per ultimo le azioni sono adunata per prendere 3 2 truppe una truppa insomma quello che c'è scritto muovere a seconda dei pedini che ci sono potete muovere una truppa di tot zone o muovere più truppe potete anche dividerli spade per vedere quante truppe potete portare in combattimento tassare che invece serve per andare a prendere risorse del territorio ve lo faccio vedere costruire città e fortificazioni oppure pescare vedete qua su in cima c'è il simbolino dell'orso il meeple dell'orso che è il giocatore che aveva il primo turno o se no anche andare a pescare carte con plotto che sono queste carte qua giù in fondo e le carte con plotto potrete usarle per azioni bonus e vi daranno sempre un qualcosa di particolare questa qui che ho pescato nel caso come vedete mi darebbe un nuovo attacco un valore di attacco in più andiamo alla mappa le cose che possiamo fare ve l'ho fatto vedere sono mettere minature quindi la donata muoverle quindi nel caso in quel turno col mio consigliere abbia preso 3 movimenti potrei muovere questa di 3 regioni oppure potrei muovere che ne so questa qui per dare rinforzo questa qui ok così ho 3 truppe in un territorio ricorda un po' risico ecco sta parte qui tassare tassare vuol dire che posso spendere un'azione di tassare per prendere l'oggetto e la risorsa di quella regione risorse che vengano passate i miei termini refreshate una volta finito il turno ovviamente riappariranno tutte posso prendere la risorsa di quella regione se spendendo un punto di tassazione solo se io comando quella regione per comandare quella regione dovete avere più miniature rispetto agli altri quindi in questo caso qui questa regione non la comando perché c'ho un omino mio però c'ho anche un ribelle nel caso il ribelle non ci fosse la regione sarebbe mia però anche nel caso ci fosse uno rosso un nemico e un ribelle ancora da sconfiggere questa regione non è di nessuno quindi quando andate sia a costruire ok con l'azione di costruire successivamente che a tassare un territorio potete tassarlo spendendo un'azione di tasse di quella che avete preso dalla plancia strategie solo se avete il controllo della regione se io ci avessi un altro mino qui la regione sarebbe mia perché ovviamente sono due lui c'è una uno lui c'è una uno e quindi per prendere questa risorsa spenderei uno se invece azione di tassa ma c'ho una miniatura soltanto spendo due azioni uguale quando andrete a costruire la regione è vostra sì un'azione è costruita un edificio la regione non è vostra due azioni ma comunque l'edificio lo potete sempre costruire arriva l'azione di attacco a seconda delle spade che ho dalla plancia strategia posso fare attacchi quindi nel caso io abbia una spadina sola vado a fare un attacco un attacco potrebbe essere distruggere una di queste due truppe non ci sono tiri di dado in questo gioco c'è un sistema molto più carino io posso dire faccio un attacco verso i ribelle e i ribelli lo uccido ok lo levo non c'è da fare tiri né niente uccido i ribelli e guardate sempre sotto perché sotto hanno una risorsa ricordatevi che contano punti quindi i ribelli uccisi metteteli sempre dalla vostra parte del tavolo non tornano più in gioco una volta rimossi non possono tornare quello è per la modalità solitaria lo togliete dal tavolo e quello è morto e vi siete presi la risorsa che c'è scritto sotto che la metterete sulla vostra nave che vi faccio vedere a breve nel caso io avessi un altro attacco vi ricordo che gli attacchi possono essere fatti da truppe differenti o anche dalla stessa truppa la stessa truppa può fare anche più attacchi in giro quindi sia gli attacchi che i movimenti li potete sempre dividere per come volete voi con la differenza che quando vado a fare un attacco contro la pedia di un altro giocatore comunque la rimuovo non ci hanno risorse gli altri giocatori comunque la rimuovo e l'ho distrutta quindi questa verrà tolta dal tavolo con la differenza che dovrò andare a girare una carta complotto quindi dal mazzo complotto io dovrò andare a girare una carta che ora vi faccio vedere per vedere cos'è successo perché c'è la possibilità che ho vinto la battaglia però alla fin fine ho subito talmente tante perdite che anche la mia armata è distrutta e gli serve una nuova donata quindi io quando distruggo un avversario pesco una carta complotto devo rivelare una carta extra nel caso il mio avversario controlli la regione quindi nel caso avesse due pedine quindi io ne ho attaccata una l'ho uccisa però lui aveva il controllo della regione avendo più uomini di me quindi dovrò andare a pescare un'altra carta complotto e diventano due tre nel caso il mio avversario avesse anche una fortezza quindi pescherò una carta aggiuntiva dal mazzo complotto e la metterò qua giù ricordatevi ovviamente che se lui ha la superiorità numerica sulla regione dovete sempre andare ad aggiungere le carte in più giro queste tre carte che sono qui giro la prima per vedere cosa è successo se su una qualsiasi delle tre carte ok compare il simbolino nero di un soldato scuro qua giù in fondo che ricorda un po' un ribelle io avrò distrutta la truppa dell'avversario la distruggerete sempre però anche la mia truppa sarà morta e quindi ora iniziate a capire a cosa servono le adunate le adunate servono perché truppe le perderete mano a mano andando avanti serve per richiamare truppe morte sul campo ah le pedine rimosse mettetele in un cumulo comune perché non sono perdute basta fare una adunata e la riporto in gioco con la differenza che l'unica regola è che la potete mettere soltanto in zone dove avete già altre miniature non le potete mettere in giro dove vi pare a voi poi ci sono le azioni dell'eroe che è una truppa normalissima come tutte le altre solo ha delle abilità speciali quindi leggetevi la carta e l'azione di costruzione se avete un martellino potete fare una costruzione soltanto se ne avete due ne potete fare due e così via con l'azione di costruzione ad esempio se questo territorio è stato preso dai rossi ci possono costruire una fortezza che conta come una truppa quindi una fortezza messa nella regione conta come una truppa normale questa regione in caso di combattimento non avrà due truppe ma ne avrà tre un mercatino nel caso questo giocatore rosso vada a tassare una regione dove c'è un mercato del suo colore non prenderà una risorsa da questo ma ne prenderà due quindi invece di una pelle se ne porterà a casa due e una chiesa la chiesa vi permette automaticamente di rimuovere una truppa sul campo che sia una truppa avversaria o che sia un ribelle vi permette di rimuoverla direttamente dal campo nel caso di un ribelle non prenderete il bonus con quest'azione però comunque l'avrete distrutto e non soltanto vi permette di togliere una truppa nemica ma di mettere una nuova truppa delle vostre e fare una donata praticamente a costo zero con l'unica limitazione che potete mettere un solo edificio di ogni tipo quindi se il giocatore rosso ha già messo una fortezza il giocatore blu non potrà mettere un'altra fortezza dovrà combattere fino a che non gliela avrà distrutta e poi ovviamente mettere un'altra fortezza per conto su perché vi ricordo che anche le fortezze contano come truppe quindi se in una zona c'è già una fortezza e c'è già una chiesa tutt'al più il giocatore blu ci potrà andare a mettere ad esempio un suo mercatino blu però non potrà andare a mettere né chiesa e né un'altra fortezza queste sono le regole principali per la costruzione l'ultima azione è quella di andare a pescare dai mazzi dei complotti che vi ho fatto vedere all'inizio perché le carte complotto danno dei bonus prendendo una carta complotto a caso come vi ho fatto vedere precedentemente ad esempio prendo questa qui questa carta complotto la potrò utilizzare un'altra tour e mi dice ok c'hai una spada puoi fare un altro attacco oppure prendendo questa puoi fare un'altra donata quindi fra tutte le azioni che potete fare che sono quelle che vi ho descritto diciamo che anche stare attenti al mazzo vostro complotto ne potete avere in mano quante ve ne pare è la cosa migliore da fare in assoluto completano le azioni la vostra barchetta e il molo dove andrete a mettere le risorse che avrete raccolto nel caso io abbia raccolto una pelliccia la potete mettere lungo e moli o direttamente sulla nave se la metterete sulla nave e prenderete tutti quanti gli slot di quel tipo vedete chiede soltanto una pelle andando a vedere in fondo avrete preso una moneta all'inizio del prossimo turno prenderete una nuova moneta e la metterete insieme alle vostre tre di partenza le monete servono per attivare effetti particolari nel caso io avessi preso due di miele le andrò a mettere qua giù e nel turno successivo con queste due unità di miele prenderò un'altra moneta quindi facendo il conto farò una moneta dalla pelle e due dal miele ovviamente le risorse possono essere convertite come vi faccio vedere ora e se vi arrivassero delle risorse in più che al momento non potete mettere da nessun'altra parte tipo io prendessi una pelle ma lo slot della pelle ce l'ho già pieno la posso mettere tranquillamente qua su quando utilizzerò un'azione che mi rimuove una pelle quindi questa va scartata ci potrò mettere l'altra pelle per ricontinuare a prendere le monete sotto ci sono oltre a queste azioni oltre alla plancia delle strategie ci sono anche le azioni bonus ogni giocatore può fare un'azione bonus delle tre che gli vengano date le azioni bonus sono ad esempio usare una carta di quelle che ha pescato ovviamente non dal mazzo di quelle che c'ha già in mano precedentemente può usare una carta complotto e le carte complotto sono usate come vi ho fatto vedere per prendere più truppe per prendere più risorse a volte soldi e cose del genere quindi facendo tutte le azioni e movimenti gli attacchi che vi ho fatto vedere può anche usare una carta complotto e dire ok io uso anche questa che mi dà che ne so boh un bonus al combattimento all'inizio di ciascun turno ci sono le carte atto che sono sempre un mazzo messo a faccia in giù e tre carte messe a faccia in su che possono vedere tutti i giocatori sempre con l'ordine di iniziativa che si va sull'orso mi garba troppo il mipo lì il giocatore all'inizio del turno andando in ordine di iniziativa e poi in senso orario pescherà una di queste carte atto queste carte atto sono un'altra azione che può usare bonus quindi una soltanto delle tre che vi vado a descrivere per dire non lo so io ho questo atto in mano qui completo quest'atto faccio quello che c'è scritto sulla carta e prendo i due bonus che ci sono sotto quindi ogni volta che inizio turno un giocatore in ordine di iniziativa andrà a pescare una carta atto subito dovete cambiarla con una nuova quindi devono essere sempre tre scherate qui davanti e questa rimarrà poi nella mano del giocatore che se portata a compimento gli darà i punti bonus che sono scritti in cima ultima azione bonus conversione delle risorse in questo caso qui che ne so ci dice converti un miele o un pesce ok la riga nel mezzo la diagonale vuol dire uno o l'altro un miele o un pesce più una pelle per avere una nuova truppa oppure semplicemente converti legna o una roccia più una pelle come vi ho fatto vedere per rimuovere anche un po' se no la barca sarebbe subito piena e prenderete una costruzione ancora una volta vi ricordo che potete fare soltanto un'azione di queste tre una volta per turno citando Nemesis ad esempio che all'inizio del gioco dovrete dare due di queste carte per ciascun giocatore il giocatore dovrà leggerle se ne terrà una segreta e tutte le altre verranno rimesse nella scatola portare a compimento un'agenda quindi fare quello che c'è scritto qui vi darà i punti bonus segnati in fondo per il conteggio finale più finale la tabella delle rivendicazioni questa qui semplicemente ogni volta che andate a fare una battaglia ci dovete mettere il vostro cursore ok quindi ogni volta che ha attaccato un'altra truppa o ha ucciso una truppa parto da qui ne ho uccise due qui poi qui poi qui vedete sono tutte collegate al giocatore che avrà fatto più azioni di guerra bellicose prenderà tre punti vittoria alla fine il secondo ne prenderà una anche se ci dovessero essere più truppe più giocatori scusate che arrivano al tracciato finale qua su in cima alla fin fine contate sempre che è arrivato per primo secondo e così via il primo tre punti il secondo un punto mentre invece qua giusto nelle rivendicazioni che potrete prendere mano a mano andando avanti nel gioco a fine turno che ne so ho conquistato due regioni ci metto questa il giocatore blu ha conquistato due regioni nel turno successivo conquista un'altra regione e questo va su nel conquisto 4 e questo va su ovviamente quando arriva in cima sarà arrivato al massimo del tracciato e ricordatevi ragazzi che non possono scendere nel caso abbiate 5 regioni ne perdete una e andate a 4 comunque voi a 5 ci siete arrivati e tutte le altre cose e anche qui farete il conto dei punti bonus quindi i punti finali sono rivendicazioni tutte le azioni che avete fatto nel gioco agende e quant'altro insomma le carte sono veramente complotti e tutte le altre cose sono importanti come avete visto è un gioco veramente veloce che io ho spiegato forse sono un po' troppo prolisso nelle regole e tutto quanto però ragazzi forse di tutti i giochi ricevuti finora ed è un bene è quello più veloce e facile che ho avuto ragazzi in conclusione Rurik l'alba di Kiev è un gioco veramente facile veloce immediato però è molto strategico è quello che a me mi piace perché tante volte si vedono giochi del genere dove uno dice sì alla fin fine potrebbe essere come un risico che vi ricordate la regione che ha più cararmatini attacca la regione che ne ha meno no? alla fin fine si tirano più dadi meno dadi quello che è però va tutto risico quello che fino a un certo punto non mi è piaciuto perché si va tanto a vedere i sudadi su quelle cose lì mentre invece Rurik l'alba di Kiev è bello perché conta tutto veramente su come mettete i meeple degli emissari cioè la cosa veramente più importante è come le disponete perché se io ne metto uno con un valore basso un valore di uno so che agirò per primo però se altri mi hanno messo dei meeple sopra vado a prendere la risorsa più scadente se nessuno ci sta che in un turno nessuno voglia fare battaglia o costruire no? se sono comunque il primo in alto anche con un meeple di livello 1 mi prendo il valore migliore quello più in alto di tutti perché sono l'unico in quella riga lì però allo stesso tempo muoverò anche per primo e quindi è una cosa molto strategica bellica secondo me divertente da vedere cioè uno veramente ci si deve scelvere là perché pensa sì c'ho il 5 che sta in cima ma muove per ultimo però l'uno che in fondo prende un bonus del cavolo però magari con quel bonus del cavolo invece di attivare tre truppe ne attiva una soltanto di adunata però muoverà prima di me e mi potrebbe dare guerra visto che lui nel 2 ha messo l'azione di battaglia cioè le devi pensare veramente tutte ed è molto 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 strategico e mi piace da morire vi dico la verità mi piace come idea lo giocherò tanto perché è bello immediato veloce però è profondo potrebbe sembrare un gioco del cavolo risico una nuova versione di risico medievale ma invece no cioè è bello tattico anche dove si prende le risorse costruire edifici cioè c'è uno spessore sto gioco una profondità che difficilmente ho trovato finora e infatti poi sempre parere personale mi sta piacendo veramente da morire come idea se le devo dare un voto ragazzi a un gioco del genere che onesto non conoscevo boh non sapo nemmeno se fosse sto Rurik mi è stato proposto dalla GiochiX gli ho detto va bene ragazzi datemi un attimino vi rispondo alla mail l'ho controllato l'ho visto ho fatto sì sì ma andatemelo cavolo è bellissimo non lo conoscevo ignoranza mia non sapo nemmeno che fosse uscito veramente molto bello ragazzi ed è un gioco di punta portato in Italia tradotto dalla GiochiX.it che vi consiglio assolutamente di darci un'occhiata se le devo dare un voto le do un 9 su 10 meritatissimo perché sono partito scettico ho detto ma un gioco del genere vi posso dare un 6 e mezzo un 7 però poi provando all'affondo vedendo tutte le meccaniche è veramente un gioco completo vi garbano giochi di strategia di botte e di campagne medievali su larga scala con conquiste tasse cose del genere truppe questo in assoluto è il gioco che fa per voi veloce e immediato pochi token è veramente divertente e poi per quanto le miniature ve l'ho detto siano semplici fatte di plastica è bello vedere sto tavolo pieno poi vabbè gli eroi sono spettacolo ecco gli eroi sembrano presi da un gioco fantasy veramente spettacolari anche come dettagli e dipingeli poi diventano bellissimi e li dipingeremo sicuramente magari ve li faremo vedere in qualche altro video quindi 9 su 10 meritatissimo io ringrazio ancora una volta la giochi x.it per averci fornito una copia per la recensione e ragazzi grazie veramente di cuore onoratissimo di avere la possibilità di collaborare con voi e spero di essere andato abbastanza bene comunque ragazzi dateci un'occhiata link in descrizione per acquistarle e tutto quanto guardatelo 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 perché soprattutto per gli amanti del medioevo come me è uno dei giochi che forse ci voleva per davvero mi garba mi garba da morire ragazzi in descrizione link per acquistarlo e trovate tutti gli altri prodotti e progetti andate a vedere anche il sito della giochi x e tutti quanti i nostri link come ad esempio instagram facebook e quant'altro social fatevela prendere bene fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti ciao ragazzi alla prossima